2. Premessa seconda filosofica a mo' di scusa. L'idea, o piuttosto, il consiglio di scrivere mi è venuto dal mio reverendo amico Don Eligio Pellegrinotto, che al presente ha in custodia i libri della Boccamazza e al quale io affido il manoscritto appena sarà terminato, se mai sarà. Lo scrivo qua nella chiesetta sconsacrata al lume che mi viene dalla lanterna lassù della cupola. Qua nell'abside riservata al bibliotecario e chiusa da una bassa cancellata di legno a pilastrini, mentre Don Eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente assunto di mettere un po' d'ordine in questa vera Babilonia di libri. Temo che non ne verrà mai a capo, nessuno prima di lui si era curato di sapere, almeno all'ingrosso dando di sfuggito un'occhiata ai dorsi, che razza di libri quel monsignore avesse donato al comune. Si riteneva che tutti, o quasi dovessero trattare di materie religiose. Ora il pellegrinotto ha scoperto per maggior sua consolazione una varietà grandissima di materie nella biblioteca di monsignore e siccome i libri furono presi di qua e di là nel magazzino e accozzati così come venivano sotto mano, la confusione è indescrivibile. Si sono strette, per la vicinanza fra questi libri, amicizie oltre ogni dire speciose. Don Eligio Pellegrinotto mi ha detto, ad esempio, che ha stentato non poco a staccare, da un trattato molto licenzioso, dell'arte di amare le donne. Libri 3 di Anton Muzio Porro dell'anno 1571. Una vita e morte di Faustino Materucci, Benedettino di Polirone, che taluni chiamano Beato, biografia edita a Mantua nel 1625. Per l'umidità le legature dei due volumi si erano fraternamente appiccicate. Notare che nel libro secondo di quel trattato licenzioso si discorre a lungo della vita e delle avventure monacali. Molti libri curiosi e piacevolissimi Don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una scala dell'ampionaio, appescato negli scaffali della biblioteca. Ogni qualvolta ne trova uno, lo lancia dall'alto con garbo sul tavolone che sta in mezzo. La chiesetta ne rintrona. Un nugolo di polvere si leva da cui due o tre ragni scappano via spaventati. Io accorro dall'abside scavalcando la cancellata. Do prima, col libro stesso, la caccia ai ragni su pel tavolone polveroso. poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo. Così a poco a poco ho fatto il gusto a siffatte letture. Ora Don Eligio mi dice che il mio libro dovrebbe essere condotto sul modello di questi che gli va scovando nella biblioteca, aver cioè il loro particolar sapore. Io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me e poi altro mi trattiene. Tutto sudato e impolverato Don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside riparato giro giro da stecchi e spuntoni. Eh mio reverendo amico gli dico io seduto sul murello col mento appoggiato al pomo del bastone mentre gli attende alle sue lattughe. Non mi par più tempo questo di scrivere libri neppure per il scherzo. In considerazione anche della letteratura come per tutto il resto io debbo ripetere il mio solito ritornello maledetto sia Copernico. Oh 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 che c'entra Copernico esclama Don Eligio levandosi sulla vita col volto infuocato sotto il cappellaccio di paglia. C'entra Don Eligio perché quando la terra non girava è da lì ma si ha sempre girato. Non è vero l'uomo non lo sapeva e dunque era come se non girasse. Per tanti anche adesso non gira. L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino e sapete come mi ha risposto? Che era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto anche voi scusate non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il sole. Ma lasciamo stare questo. Io dico che quando la terra non girava e l'uomo vestito da greco o da romano vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minute piena doziosi particolari. Si legge o non si legge in quintiliano come voi mi avete insegnato che la storia doveva essere fatta per raccontare e non per provare? Non nego risponde Don Eligio ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari come da che a vostro dire la terra si è messa a girare. E va bene il signor conte si lavò per tempo alle ore otto e mezzo precise la signora contessa indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola teresina si moriva di fame lucrezia spasimava d'amore oh santo dio e che volete che me ne importi siamo o non siamo su un invisibile trottolina cui fa da terza un fil di sole su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira senza sapere perché senza pervenire mai a destino come se ci provassi gusto a girar così per farci sentire ora un po più caldo ora un po più freddo e per farci morire spesso con la coscienza di aver commesso una sequela di piccole sciocchezze dopo 50 o 60 giri copernico copernico don eligio mio ha rovinato l'umanità irrimediabilmente ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza a considerarci anzi men che niente nell'universo con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che abbiano le notizie non dico delle nostre miserie particolari ma anche delle generali calamità storia di vermuccio ormai le nostre avete letto di quel piccolo disastro delle antille niente la terra poverina stanca di girare come vuole quel canonico polacco senza scopo ha avuto un piccolo moto di impazienza e ha sbuffato un po di fuoco per una delle tante sue bocche chissà che cosa le aveva mosso quella specie di bile forse la stupidità degli uomini che non sono stati mai così noiosi come adesso basta parecchie migliaia di vermuccio abbrustoliti e tiriamo innanzi chi ne parla più don eligio pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di strappare di distruggere le illusioni che la provida natura ci aveva creati affin di bene non ci riusciamo per fortuna l'uomo si distrae facilmente questo è vero il nostro comune in certe notti segnate nel calendario non fa accendere i lampioni e spesso se il nuovo ci lascia il buio il che vuol dire in fondo che noi anche oggi crediamo che la luna non stia peraltro nel cielo che per farci un lume di notte come il sole di giorno e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo sicuro e dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose che ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo dovrebbero parerci miserie incalcolabili ebbene in grazia di questa distrazione provvedenziale oltre che per la stranezza del mio caso io parlerò di me ma quanto più brevemente mi sarà possibile dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie alcune di esse certo non mi faranno molto onore ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale che posso considerarmi come già fuori della vita e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta cominciamo grazie a tutti